Siamo qui anche quest'anno all'edizione di Focus Live al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per rappresentare ai partecipanti la stazione di realtà virtuale che utilizza e distribuzione. È già da diversi anni che utilizziamo la stazione nei nostri centri di addestramento operativo come asset dedicato alla didattica. Oltre alle lezioni in aula di tipo teorico e alle prove di addestramento operativo sugli impianti elettrici abbiamo già da qualche anno adottato la stazione di realtà virtuale, le stazioni di realtà virtuale per formare il nostro personale, in particolare operativo, che si trova a gestire i rischi operativi legati all'attività sulla rete elettrica.